Un tuffo nelle tradizioni toscane e con la festa sullaia di fine battitura del grano. Nella splendida tenuta dell'azienda agricola Le Macchie, sulle colline di Gambassi Terme, una cena con oltre 200 ospiti, organizzata dalla rete Proceva, produttori cereali Valdelsa. Come tutti gli anni, ormai da un certo periodo, ci incontriamo con tutti gli agricoltori che partecipano e collaborano con Proceva alla fine delle operazioni di raccolta del grano. Ci ritroviamo per passare una serata insieme di festa, diciamo. Il terzo anno facciamo questa serata qui in casa di un nostro amico, di un nostro socio, utilizzando anche i nostri prodotti di filiera. Il raccolto è stato terminato, la stagione, nonostante le piogge, ci è stata favorevole. Una buona produzione, una buona qualità e andiamo avanti così. Sicuramente una seconda edizione di questo evento che Proceva ha deciso di fare tutti gli anni, non l'abbiamo conosciuta e anche con TVL sono stati ospiti anche durante l'ora verde. Ci hanno presentato questa bella realtà di produzione sia di grano tenero che di grano duro, rapporto con la distribuzione locale. Veramente quando si assaggia i loro prodotti si capisce la differenza tra il prodotto locale genuino e quello che tante volte invece è più prodotto di massa e magari costa qualcosina meno, ma che a livello di qualità c'è una differenza veramente importante. Quindi noi siamo orgogliosi, li appoggiamo, li offriamo il sostegno per quelli che sono i loro numerosi progetti, una realtà in continua espansione che veramente rende onore al settore. È importante essere qui alla fine della trebbiatura delle aziende di Proceva che festeggiano in qualche modo come una volta con una cena sulle aia la loro attività. È importante che gruppi di aziende che facciano associazione insieme e che insieme si mettano qui per produrre valore. Il territorio ha bisogno di queste esperienze e siamo felici come istituzioni di sostenerle. Quest'anno all'interno di questa serata abbiamo pensato anche di fare una serata dedicata a un'associazione di Empoli per quanto riguarda una raccolta di fondi da destinare a degli ospedali che verranno realizzati in Africa. Ringrazio tantissimo Proceva perché ci ha dato l'opportunità tramite la vendita, offerta dei loro prodotti di poter finanziare il centro di salute di Anieche che si trova nel nord Uganda. Tramite i prodotti che hanno riscontrato una vendita favorevole perché ne abbiamo venduti tantissimi abbiamo potuto aiutare a finanziare questo progetto. Il progetto, come ho detto prima, si trova nel nord Uganda. È la ristrutturazione e l'ampliamento del centro di salute di Anieche. Il centro di salute di Anieche ospita mamme e bambini della zona e riesce a effettuare più di mille parti all'anno. E questo, una volta che è in funzione, è un grande aiuto per l'ospedale più vicino che dista più di 50 km ed è a bere. Ne parlo così nello specifico perché noi, perché mio marito ed io siamo partiti più di 30 anni fa abbiamo abitato all'ospedale di Abert per più di due anni. Proprio per questo conosciamo bene la zona e veramente pensiamo che sia necessario ristrutturare il centro di salute di Anieche altrimenti le mamme non riescono ad arrivare, se hanno difficoltà, non riescono veramente ad arrivare all'ospedale per poter essere curate. In questi primi due anni il progetto è nato nel 2021 a seguito della morte di nostra figlia Chiara. Infatti, nello specifico, Nascere con Chiara. Infatti, la struttura, le opere murarie sono già state fortunatamente finite. In questo anno cerchiamo di finanziare le attrezzature che servono per la sala operatoria perché l'intenzione è di avere una piccola sala operatoria specifica per la maternità e delle culle termiche per i bambini in modo che non si debbano spostare perché i 50 chilometri che devono fare spesso sono fatti o in bicicletta o con mezzi pubblici in strade di sestate e non arriveranno mai all'ospedale più vicino. CUAM, non so se è stato detto da mia moglie, è un organismo medico, invia volontari medici in otto paesi africani e cerca di promuovere lo sviluppo insieme a loro. Il progetto sta portando avanti, questo è il terzo quinquennio, il progetto Prima le mamme e i bambini che praticamente cerca di seguire la mamma in gravidanza, da prima della gravidanza fino a due anni dopo il parto, il figlio dopo il parto. Ecco, in otto ospedali africani, questo perché? Perché è chiaro, essendo una popolazione povera non può pagarsi gli ingressi negli ospedali, quindi il CUAM cerca di abbassare al minimo, si chiama user fees, sarebbe un minimo ticket per far sì che più persone utilizzino questi centri sanitari. Dobbiamo sapere, lo sapranno tutti oggi l'informazione, che ogni due minuti nel mondo muore una donna per problemi legati alla gravidanza, quindi ogni due minuti sono 720 madri che muoiono ogni giorno nel mondo. Ecco, noi con questo progetto cerchiamo di aiutare le donne in Africa. Grazie a tutti.